2.000 anni fa è venuto a togliere il karma di Atlantide, altrimenti l'umanità non ce l'avrebbe fatta. È possibile che anche San Francesco abbia avuto questo compito? Che ti risulta o eventualmente qual è stato il suo compito per noi? San Francesco, innanzitutto il mio legame con lui è che mi onoro di appartenere al suo albero genealogico. La mia nonna materna è discendente dal papà di San Francesco, quindi da quella famiglia là, Moriconi, di cognome. E' bello, no? Quindi questo è il mio legame con lui, cioè io mi onoro di questo. Un legame c'è, un legame spirituale c'è perché sai, a Gubbio è forte la presenza di San Francesco, che San Francesco è nato ad Assisi ma ha vissuto tanto a Gubbio. A Gubbio ha ricevuto la vera conversione, a Gubbio ha ammanzito il lupo, a Gubbio ha parlato, ha conosciuto famiglie che lo hanno anche aiutato, perché non immaginiamo che Francesco e i suoi fraticelli stessero lì nei boschi morendo di fame e punto e basta e aspettando la manna dal cielo. Loro comunque conoscevano gente, quindi famiglie anche facoltose li hanno aiutati. Certo non li hanno fatti arricchire, perché San Francesco era uno che distribuiva equamente tutto e il superfluo non lo dava a nessuno, lo dava ai poveri. Quindi c'è stata questa interazione con la cittadinanza, poi appunto la questione del lupo di Gubbio fu una cosa importante perché questo lupo spaventava veramente la gente lì, del contado. Cioè appena fuori le mura della città antica c'era la campagna e poi il bosco e c'era questo lupo, questa lupa, si dice fosse una femmina, faceva grossi guai, attaccava e avevano tutti paura, addirittura quando uscivano dovevano andare in posti che dovevano per forza passare di lì, dove c'era la possibilità di incontrare questo lupo, si vestivano da guerra, come per andare in guerra, quindi era un lupo feroce che li spaventava tanto e San Francesco è andato lì senza armi, senza niente, nemmeno un bastone portava, niente. Quando è andato lì il lupo immediatamente correva, iniziò a correre incontro a San Francesco per attaccarlo e San Francesco gli ha alzato la mano così, gli ha fatto il segno della croce da lontano, frate lupo, ha gridato, sicuramente avrà avuto anche l'emotività del momento. Tu sei ladro e assassino, lo ha sgridato, hai portato il terrore su questa terra, ma io metto pace tra te e questi abitanti. Mentre San Francesco parlava e si avvicinava, piano piano il lupo sempre più docile, sempre più docile, fino a che si sono incontrati e il lupo si è messo giù, come in sottomissione. E quindi lui lì lo ha ammonito. Adesso tu non farai del male a nessuno e vedrai che loro ti daranno da mangiare, i cittadini di questa gubbio ti daranno da mangiare e nemmeno un cane ti abbaglierà addosso, ti abbaglierà quando passerai nella città. E da quel momento il lupo è diventato il lupo di gubbio perché andava, entrava ed usciva dalle case delle persone che gli lasciavano da mangiare e nessun cane ha mai attaccato il lupo o abbagliato al lupo, mai. Questo è andato avanti per un paio d'anni. Poi il lupo è deceduto e sono state trovate, mi sembra una decina di anni fa forse meno, addirittura le ossa del lupo in una chiesa, in una cripta. Quindi non è vero che la lupa era una metafora di una prostituta o di... no, no, era un lupo, vero. Sempre con le donne ce l'hanno, ragazzi. E la lupa è la prostituta, è così. Poverini, hanno problemi con le donne in chiesa. San Francesco, come stimmatizzato, certo che ha contribuito a lavare il karma. Come oggi Giorgio Bongiovanni, come ha fatto Padre Pio, come tutti gli stimmatizzati, contribuiscono tuttora a lavare il karma. Sono altro che i sacerdoti alter Christus, un alter Christus. Non sono altri Cristi i sacerdoti qualsiasi. Altri Cristi sono gli stimmatizzati che portano i segni della passione di Cristo. Poi in Giorgio Bongiovanni veramente c'è il sacerdote, il sacra docens, cioè l'insegnante del sacro. Quindi, mentre altri stimmatizzati non hanno insegnato, hanno semplicemente sanguinato, semplicemente tra virgolette, perché quel sangue è il sangue di Cristo che continua a lavare i peccati del mondo, continua a lavare il karma dell'umanità. Quindi San Francesco, in questo senso, è stato un altro Cristo. Ha ricevuto le stimmate dal Serafino, quindi da Cristo, e ha riprodotto quindi la sua passione e ha contribuito a lavare il karma. Non ricordo chi lo ha detto, e non so se questa notizia sia attendibile al 100%, ma ci fa un po' sognare, che San Francesco è stato poi Padre Pio, perché ha continuato la missione. Mi ha continuato la sua missione, così. Non ricordo adesso, scusatemi, però l'ho voluta lanciare così come un sasso nello stagno, magari. Poi facciamo delle ricerche. E quindi, appunto, Padre Pio, ma anche altri hanno contribuito ad alleviare le pene, a consolare tanto tante persone. C'era, ad esempio, Natuzza Evolo, che era non perennemente stimmatizzata, però comunque stimmatizzata, mi sembra, durante la Pasqua. E lei ha consolato tanta, tanta gente, tantissimo. Tra l'altro mi fa sorridere perché lei è di un paesino che si chiama Paravati. Paravati, Parvati, è uno dei nomi della Dea Madre in sanscrito, no? Parvati. Namma Parvati. Il nome di Parvati. Paravati. Guarda caso, lei, una piccola madre, è stata per tanta gente, no? E così sono sempre sincronicità, possono essere chiamate coincidenze, ma io penso che noi vediamo il rovescio del tappeto qui nel mondo materiale. Quindi vediamo le trame che si intrecciano, non capiamo bene. In astrale e nel mondo spirituale invece si vede il dritto del tappeto e vede il disegno, che qui vedi solo i fili che si intrecciano. Di là vedi il disegno. Ah, ecco perché lì si intrecciava così, sembrava che non c'entrasse nulla, invece il disegno è perfetto. Così funziona. Queste due realtà bisogna reintegrarle. Loro vivono integrandole, sono integrati in queste due realtà fisica e spirituale. Loro, i nostri fratelli dello spazio. Quindi anche Teresa Neumann, se così si pronuncia, scritto Neumann, penso si pronunci Neumann. Santa? Teresa Neumann è santa? Mi sembra che sia santa, vero? Teresa Neumann. Lei ha incontrato anche Yogananda. Ha incontrato anche Yogananda. Teresa Neumann, che Hitler era terrorizzato da Neumann. Cioè aveva, sapeva che lì c'era Cristo, quindi lui che era l'incarnazione di Giuda. Non me lo far toccare il maestro, va? Era un asi. Così ci dicono, io non lo so, io mi attengo a quello che dicono i maestri cosmici. Se i maestri cosmici tutto quello che dicono è giusto, è corretto, allora, e lo riconosco tale perché ci sono, lo riconosco giusto e corretto perché ci sono prove a sostegno di questo, allora anche dove non ci sono prove, cioè dove io non posso effettivamente riscontrare delle prove, se lo dicono loro, allora il 99% di quello che dicono va bene perché ho le prove e quell'1%, siccome non ho le prove, allora no, aspetta, non ci credo. No, alla fine devi ammettere che, vabbè, anche se io non ho le prove, loro dicono questo, quindi lo dico, lo divulgo, lo affermo. Certo, non è una conoscenza che viene da me, viene da loro. Quindi mi fido degli dei. Anche lei, Teresa Neumann, aveva delle sanguinazioni spaventose e lì riviveva la passione, riviveva tutto. Addirittura parlava in lingua aramaica, anche in ebraico antico, ma in lingua aramaica, quando riviveva delle scene. Ogni volta che viveva delle scene, Teresa Neumann, le viveva come se fosse la prima volta e le viveva come se fosse lei lì presente all'epoca. Un esempio che mi ha sconvolto particolarmente è stato quando lei, i momenti perché a volte, mentre aveva le estasi, poi lo raccontavano e poi nel tempo, chi stava intorno a lei ha capito i momenti in cui lei viveva e che cosa stava vivendo, perché per anni l'ha vissuto. Mi sembra per tantissimo, tipo 36 anni, per tantissimo tempo, nei quali ha mangiato solo un'ostia, zero acqua, zero cibo, solo un pezzetto di ostia ogni giorno, fine dell'alimentazione. Ecco, quindi nei momenti in cui lei riviveva il momento del bacio di Giuda a Gesù, lei all'inizio sorrideva, felice, perché pensava fosse un bacio di amicizia e questo accadeva tutte le volte che lei riviveva quella scena, tutti gli anni, tutti i venerdì santo. E poi quando si rendeva conto che invece era un bacio di tradimento, inorridiva, faceva un volto di terrore. Quindi lei se la viveva proprio sta cosa qua. E quindi rivivendo quella passione riproduceva quella sofferenza e quella sofferenza è servita a continuare a bruciare, a eliminare, a lavare il nostro karma collettivo.